No! Non è certo una valigetta qualunque, guardate! Si tratta di un vecchio giradischi. E questo qui era il nostro disco preferito. Possiamo sentirlo? Certo! Non lo ascoltiamo da anni. Però, quanti ricordi! Coraggio, Peppa e George. Ballate con noi. Mamma Pig va a prendere i bambini. Buongiorno! Non c'è nessuno! Mamma Pig non sa dove siano. Che cos'è questo rumore? Mamma! Oh, eravate qua su? Stavamo ballando la canzone preferita di Nonna e Nonna Pig. Sì, ascoltavano questo disco tutti i giorni. Oh, e questo invece era il mio preferito quando ero piccolina. Come si chiama? Il titolo è Il passerotto fa bau bau. No, Il passerotto fa bau bau, no! Non volevi ascoltare nient'altro. Ero convinta di averlo buttato via, invece era qua su. Il passerotto fa bau e il cane fa cip bau, cip bau, cip bau, bau, bau. E la pecora fa bau, e la mucca fa bau, 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 cip bau, bau, cip bau, bau, bau. Ancora, ancora! Il passerotto fa bau e il cane fa cip bau, cip bau, cip bau, cip bau, bau, bau. E la pecora fa bau, e la mucca fa bau, 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 cip bau, 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 cip bau, 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 bau. È stato divertente, ma non dimentichiamoci che dobbiamo ancora decidere che cosa buttare. Peppa, secondo te che cosa dovremmo tenere in soffitta? Penso che dovreste tenere tutto quanto! Il passero fa bau, e il cane fa cip bau, cip bau, cip bau, bau, bau. E la pecora fa bau, e la mucca fa bè, bau, bau, cip bau, bau, cip bau, bau, bau.